A mio avviso il Green Pass è uno strumento di libertà, di sicurezza, per difendere i cittadini e i lavoratori e per tenere aperte le attività economiche e le scuole che lo vogliamo. Voglio ringraziare Confindustria che ha subito lavorato insieme al Governo e ai sindacati per trovare un accordo sull'estensione del Green Pass ai luoghi di lavoro. Se riusciremo a tenere sotto controllo la curva del contagio, potremo allentare ulteriormente le restrizioni che sono ancora in vigore, ad esempio nei luoghi di lavoro, nei cinema, nei teatri, negli stadi e in tutti gli altri luoghi di spettacolo, di sport e cultura.